1821 siamo nel paese di Vizzini vicino Catania ed è qui che ha inventata la vicenda di Mastro Don Gesualdo in questo paesino siciliano Mastro Don Gesualdo è un ex muratore si chiama esattamente Gesualdo Motta e salva un giorno da un incendio scoppiato nel palazzo della famiglia Tra, una famiglia nobiliare la signora Bianca Bianca è una signora che è stata disonorata dal cugino Nini Rubiera che rifiuta di sposarla e allora Bianca viene data concessa in sposa al suo salvatore a Gesualdo il matrimonio economicamente vantaggioso per i decaduti Trao dovrebbe permettere al protagonista di inserirsi tra le file dell'aristocrezia del paese Gesualdo diventato marito di Bianca consolida la sua posizione vincendo l'asta delle terre comunali e appoggiando la rivolta carbonara con lo scopo di indebolire e soppiantare gli aristocratici del paese di Mizzini Bianca portugisce una bambina di nome Isabella probabilmente concepita dalla relazione con Nini Rubiera a questo punto nel romanzo c'è un ampio salto cronologico il tempo della narrazione si sposta al 1837 Isabella ha ricevuto per volere del padre una raffinata educazione in collegio e in seguito un'epidemia di colera ritorna in campagna e ormai diventata sedicenne trascorre un periodo in compagnia di Gesualdo nel podere di Mongalavite refrettaria all'affetto rozzo del padre Isabella si innamora del cugino Corrado ma Gesualdo ostacola la relazione con il giovane perché nobile ma spiantato e organizza le sue nozze con il duca di Leira a questo punto abbiamo un altro salto temporale e l'ultima parte del romanzo è ambientata da Verga negli anni della rivoluzione del 1848 e segna il momento cruciale della decadenza di Gesualdo la moglie bianca muore di tubercolosi il duca di Leira va rapidamente spendendo scialacquando la ricca dote di Isabella e nei moti del 48 Gesualdo viene incolpato dell'assassinio di Nanni Lorbo marito di Odada la fedele serva di Gesualdo e capo dei rivoltosi ammalatosi di cancro allo stomaco il protagonista viene condotto nel palazzo palermitano del genere dove muore in solitudine tra l'isprezzo della servitù rispetto ai malavoglia questo romanzo stabilisce e segna non solo l'accentuarsi del pessimismo verghiano ma anche l'apporto a noi soluzioni narrative e strutturali mastro Don Gesualdo ha come protagonista non più un'intera comunità ma un singolo personaggio un antieroe descritto nella sua sfrenata ambizione con un tono che oscilla tra la celebrazione epica e la dura condanna morale l'opera procede per blocchi contrapposti su sbalzi temporali che segnano le tappe della vita del protagonista secondo una parabola di salita, di ascesa di trionfo e infine di declino e sconfitta l'autore rinuncia all'artificio della regressione e identifica in questo romanzo il proprio punto di vista con quello del protagonista di cui vengono riportati i pensieri e i sentimenti lo stile di Verga resta mosso e dinamico grazie alla pluralità dei personaggi e alla presenza di classi sociali diverse si va dai nobili tra ormai decaduti alle figure femminili di Diodata e di Isabella particolarmente approfondite all'interno del romanzo